Vanessa Scalera, testimone all'Infa. Oggi sei qui soprattutto ad ascoltare per poi portare qualcosa all'esterno anche nel tuo mondo attraverso l'arte. Sì, ho ascoltato storie straordinarie, piene anche ricche di pathos. Ho ascoltato anche degli artisti che secondo me sono i medici, perché lavorano una materia che non conoscono, che studiano, un po' come noi attori, modelliamo le cose. Quindi è una giornata particolare, carica di emozioni e sono felicissima di essere qui. Neurofibromatosi, tu ne avevi mai sentito parlare? No, mai, mai, mai. Una parola che fa anche un po' paura, perché sembra uno scioglilingua all'inizio, non si riesce nemmeno a pronunciare. Poi, dopo averla sentita un sacco di volte, come dire, si fa amicizia anche con una parola strana, bizzarra. Io ho avuto la fortuna di conoscere Andrea Enrico, che mi ha invitata qui e mi ha fatto conoscere questa malattia, quindi sono dei vostri. Come pensi la porterai in giro anche per l'Italia a questo punto? Portarla in giro per l'Italia non so cosa potrei fare io, ma sicuramente le parole dei ragazzi e dei medici, insomma, hanno aperto un barco dentro di me, no? E' quello, è l'emozione. Adesso lo devi far sedimentare per poi vedere. Sì, sì. Potrebbe essere anche un film, non si sa mai. Ebbene, sì. Da scrivere, però. Con l'aiuto di tutti. Magari proprio delle persone che ci sono qui. Una cosa importante, mi sembra di capire, oggi è venuto fuori che la questione della squadra, o comunque di un team, di tante persone che lavorano ha lo stesso obiettivo. Sì. Della forza che esprime una squadra, cioè della tenacia. I medici sono, le persone, i medici che ho conosciuto oggi, sono veramente in prima linea, sono dei combattenti veri. Quella è la vera forza, unirsi contro una malattia così debilitante e terribile, no? Oggi tu hai sfidato il coronavirus, Padova al centro appunto di tutto questo, perché sei venuto qui, appunto, a parlare di un'altra, una malattia particolarissima. Sì, ho sfidato il media, i media coronavirus. Insomma, ora capisco tutto, però è una malattia che ancora dobbiamo capire, non si sa ancora nulla e mi sembra un po' prematuro rimanere a casa e non prendere un treno per venire a sostenere l'infa.